Amichevole speciale per il calciopadova femminile che ha ospitato sul campo di Via Vermigli la selezione universitaria giapponese dell'IMEI DOKYO UNIVERSITY in un test organizzato appositamente dalla società Sport Evans Society una società di Perugia che si occupa proprio dell'organizzazione di tour internazionali di squadre straniere e così sono potute venire a contatto due mondi diversi ma entrambi in grande crescita per quanto riguarda il calcio femminile Noi ci occupiamo appunto di formare queste esperienze che sono prima di tutto esperienze sportive poi sono esperienze anche turistiche e umane quindi noi fondamentalmente facciamo in modo che questi ragazzi e queste ragazze possano vivere al meglio l'esperienza crescere sia dal punto di vista sportivo che culturale e umano abbiamo un forte legame con il Giappone in quanto all'interno del nostro consenso sociale ci sono delle personalità che hanno avuto modo di vivere la dimensione giapponese sportiva giapponese ai massimi livelli sicuramente c'è uno spessore tecnico diffuso altissimo questo non significa che ovviamente nella nostra dimensione nazionale non valga lo stesso però diciamo che c'è una maggior trasversalità negli allenamenti anche nella preparazione dei ragazzi fin dalla tenera età diciamo a livello tecnico a lavorare con il pallone quindi sono molto bravi con la palla molto anche belli da vedere però spesso magari peccano di quella incisività di quel cinismo che poi nel calcio fa fare risultati mi chiamo Yuri Ayagi, il capitano di questa squadra si chiama Himeji Dokkyo University in questo campionato vogliamo vincere lo scudetto l'Italia e il Giappone sono molto diversi nel mondo di gioco soprattutto in Italia deve pensare più velocemente di giocare altrimenti gli avversari ci aggrediscono e quindi abbiamo avuto grande esperienza come questa Padova ha sentito che c'è molta storia di calcio e quindi siamo molto felici di trovare questa città in Italia ci sono tante donne che sono bellissime e anche gli uomini sono bellissimi questa è l'impressione proprio si vede subito intanto che loro sono molto preparate sotto l'aspetto atletico denotano una forza esplosiva notevole e anche una ottima tecnica penso adesso non so su che categorie loro giochino e comunque bisognerebbe anche sapere riproporzionare le loro categorie con le nostre però è senz'altro una squadra che nel campionato italiano si collocherebbe in Serie A si vede subito dal giro di palla, dalla forza esplosiva, dal movimento che fanno è un test molto provante per noi soprattutto dopo due settimane di buon lavoro fisico e questo è il primo test tattico di posizionamento in campo che stiamo cercando di dimostrare e di migliorare perché noi purtroppo dobbiamo migliorare moltissimo sotto questo aspetto qua